Io dico che l'idea è, non è un'idea, è una genialità, ma secondo me, voi quando l'avete scritta, forse non me ne siete accorti, è stata una culata, perché avete, è come vincere il supernalotto, il totocalcio, queste cose qui, è stata una culata, perché io con l'esperienza che ho nel mondo del cinema e anche del teatro, degli attori, eccetera, Io appena ho letto la sceneggiatura che avete fatto, sono in posto imbalsamato, ho detto, porco giutto, me l'avranno rubata qualcuno, l'hanno scopiata da qualche parte, adesso non sto un po' esagerando, perché anch'io sono un gigione terribile, mi piace esagerare, però veramente mi ha fatto una grande impressione, una grande impressione, mi è piaciuto moltissimo, poi ho telefonato quando ho parlato con qualcuno di voi, io stavo a Roma e gliel'ho detto subito, mi hanno detto, accidenti, è bellissima la sceneggiatura, perché, guarda, Intanto la cosa stupenda è che tanti registi hanno fatto cose sullo sport, ma non mai in questo modo, lo sport diventa il perno, il fulcro che rappresenta la vita quotidiana nostra, la vita con la verità dentro.